Guys, la situazione è più disastrosa per mai. Abbiamo visto una delle peggiori giornate nella storia della finanza tradizionale che ovviamente si è ripercorsa anche sul mercato delle criptorote. Bitcoin, soltanto lui perde un 15% al 100%. Infatti vi lascio preimmaginare cosa è successo sull'alcoin, ma non vi preoccupatevi che a breve andiamo a vedere. Hi guys, qui è Ryan Elbosu Crypto, analista di fiducia. E in questo video, guys, è un video time sensitive. Infatti mi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like, ma soprattutto attivare la campanellina perché questo fa la differenza, farà essere sempre giovmati e di conseguenza essere sempre on time e perciò perdere soldi sui mercati invece di essere profittevoli. Infatti, guys, vediamo come nelle ultime 24 ore sta succedendo un pandemonio sul mercato delle criptorote. Bighiamo ancora come la Togta al Crypto Market Cup. In soltanto la candela abbiamo perso il 12%, ma a partire dal 29 luglio vediamo come purtroppo abbiamo perso una capitalizzazione di mercato di circa il 27% con 679 miliardi di dollari di controvalore. Questo vuol dire che tutto il resto dell'alcoin stanno sanguinando, anche in maniera importante. Infatti, dando un contesto a questa analisi, vediamo come Bitcoin attualmente, nel momento in cui sto gestando, sta perdendo un 16%. Dominance, anche qui, rimane più o meno stabile, ma vediamo come sta quotando un prezzo a 51 mila dollari anche se, come andiamo a vedere al grafico, ha perso molto di più, soprattutto nel breve termine. È andato a prendere dei livelli importantissimi di liquidità sulla liquidation heatmap. Allo stesso modo, vediamo Ethereum che sta quotando un prezzo a 2 mila, a 200 dollari, perdendo 23,57% delle ultime 24 ore. In generale, vediamo come le alcoin saranno perdendo profondamente. Solana, perdono 20%, BNB, un altro 20%. Mure che stabili, vediamo come siano USDT e USDC, almeno questo per fortuna, ok? Vediamo in verde soltanto le stablecoin, infatti abbiamo un bordeaux, ciò vuol dire che abbiamo una perdita superiore al 15% sulla maggior parte delle alcoin. Mi e protocol, perdono 24, Litecoin un 20%, Chainlink un 27%, una situazione abbastanza disastrosa. In realtà possiamo attribuire questo crollo anche alla finanza tradizionale, infatti vediamo come anche lo Stamber in Push 500 in tre giornate, comunque si ha perso più o meno un 6%, ok? 6% su lo Stamber in Push non è da sottovalutare, assolutamente. Se andiamo a prendere l'indice di forza del dollaro americano, vediamo come anche qui abbiamo una continuazione verso di basso, infatti è una situazione abbastanza anomala, infatti solitamente quando i mercati RISCOM hanno una tendenza verso di basso, tendenzialmente l'indice di forza del dollaro americano ha una correlazione inversa, questo perché? Perché chi va a prendere profitto tendenzialmente lo fa andando a rifugiarsi nel dollaro americano, così non è stato. Infatti vediamo come anche il DXY abbia aperto nettamente verso di basso, dopo anche un velo di verso di basso, ok? Questo ci fa capire come abbiamo una situazione molto anomala che si deve ancora andare a stabilizzare. Voglio mostrarvi anche il Nikkei. Nikkei, per chi non lo sapesse, stiamo parlando dell'indice più importante per ciò che riguarda la finanza tradizionale asiatica, ok? Diciamo l'indice più importante dell'Asia. E vediamo come, purtroppo, in tre sole sessioni, di cui la maggior parte l'abbiamo fatto in solo questa sessione asiatica, abbiamo perso momentaneamente un 23%. Ragazzi, sapete cosa significa sul Nikkei numero 23%? Stiamo parlando di cifre astronomiche. Tra l'altro voglio mostrarvi anche il fatto che il Korea Exchange ha stoppato il trading dopo un 8% di drop. Ragazzi, la sessione asiatica è stata una delle sessioni più preoccupanti che ci siano state. Infatti, diciamo che il Japan Stock Market, che è appunto l'IKEI, abbiamo visto pochissimi secondi fa, ha registrato il record di perdite a partire dal 1987. È una situazione molto, molto complicata. Ma cosa potrebbe aver contribuito a questo crollo di massa? Sicuramente abbiamo visto come l'entrata, una possibile e ormai imminente entrata dell'Iran, ma il conflitto tra Israele e Palestina è sempre ducevta. Infatti l'Iran ha dichiarato di rispondere all'attentato appunto sul suolo iraniano da parte di Israele dopo aver ucciso il comandante di Hamas. Infatti c'è stato tra l'altro anche un meeting Rai G7 dove Anthony Blinken ha redatto in maniera molto urgente. E questa appunto sicuramente è stata una delle motivazioni principali per le quali abbiamo visto una situazione di questo crollo. Ma soprattutto voglio mostrare anche il fatto che tendenzialmente abbiamo una situazione molto complicata per ciò che riguarda una possibile recessione negli USAID. Così complicata che abbiamo visto le target rate probabilities per la prossima sessione dell'FOMC passare addirittura con un oltre 80% una possibilità di tali ritassi. Infatti soltanto pochissimi giorni fa a maggior parte si aspettava un fallo di 25 punti base invece adesso le probabilità di un 0,5% cioè vuol dire 50 punti base per i tassi di interesse della Banca C'è in falla americana sono saliti all'80%. Questo per darvi un po' l'entità della situazione abbastanza complicata. Passando con il grafico di Bitcoin voglio mostrare alcune cose molto importanti. Infatti passando con il grafico dei sui Bitcoin CME Futures abbiamo colmato tutto questo gap che si era formato ma non soltanto perché siamo andati a toccare i livelli molto inferiori generando un altro gap verso il ribasso. Gap che deve essere assolutamente colmato nei prossimi giorni o nelle prossime settimane ma voglio farvi vedere però il grafico normale di Bitcoin. Perché il grafico normale di Bitcoin? Perché non soltanto abbiamo rotto verso il ribasso il minimo dei 55.800 dollari ma abbiamo preso e siamo arrivati addirittura momentaneamente ai 49.000 dollari perché è una zona molto importante ai 49.000 dollari? Perché se mi chiamiamo i gaffi da sei mesi abbiamo preso tutta questa liquidità la liquidità più importante che ormai ce la portavamo dietro a partire dal 26 febbraio perché abbiamo visto una tendenza verso il rialzo che ha portato Bitcoin dai 52.000 dollari fino al massimo storico dei 73.000 in meno di un mese. Vediamo come tutta questa liquidità poi è stata colmata con questa cambelona e attualmente vedremo un po' la situazione come se l'olver adesso possiamo vedere come se dovessimo chiudere sotto i 55.700 dollari purtroppo potremmo vedere una continuazione dal resto di basso a meno che nei prossimi giorni non andiamo a riassorbire subito e rientriamo sopra i 56.500 dollari. La situazione è molto complicata io per adesso non sto tradando tradare adesso in un mercato nervoso così secondo me è da folli anche perché non abbiamo una price action pulita non abbiamo soprattutto una movimentazione una price action che ci possa far capire come potrebbe comportarsi a livello tecnico qui il mercato è molto sostanzialmente da liquidazioni, fattori estermi e soprattutto situazioni molto complicate anche a livello geopolitico cosa che non è il nostro potere andare a prevedere cercare di prevedere con una buona statistica quindi i guides mi dico sempre a tenere un comportamento per il trading molto accurato in queste situazioni vediamo come anche l'oro ha aperto una sessione negativa non negativa come in realtà abbiamo visto sullo stock market dallo stesso modo se passiamo con Ethereum abbiamo avuto una performance molto molto importante verso il ribasso i vari di qui i pochissimi giorni siamo passati dai 3.400 dollari i 2.200 dollari avremmo perso più di un 33% in una settimana andando a liquidare e prendere la liquidità albissotto di questa zona però ancora non vediamo una situazione che potrebbe essere realsista quindi guys fate moltissima attenzione vi ricordo che per fare trading io attualmente sto utilizzando talto parto dei miei strumenti anche Bing X Bing X a mio modo di vedere è uno dei migliori exchange che ci sia a disposizione guys vi lascio tutti qui sotto in descrizione con i vari bonus indito nuovamente alla calma iscrivetevi al canale lasciate un like ma soprattutto attivate quella maledetta campanellina perché questo fa la differenza da perdere soldi sui mercati invece essere perfettivoli dato che siete sempre aggiornati on time da Ryan è tutto ci vediamo nel prossimo video o vedo domani bye ciao